Buonasera a tutti, benvenuti alla sfida tra Orlando Pirates e New York Red Bull. Qui in panchina l'infortunato Simon Capriello, che dice? Niente di particolare, speriamo sia una bella partita, corretta e che vinca il migliore. Ieri il Boga ha vinto, 4-2 contro il PSV. Francamente da voci di corridoio sono venuto a sapere che nel secondo tempo si sono menati abbastanza, però vabbè, classico atteggiamento del Boga che la butta sempre sulla lista. Si sa. Va benissimo. Su sta partita? Pronostico? Pronostico purtroppo ci mancano due o tre pezzi importanti. Speriamo di giocarcela, però vada come vada. In fin dei conti siamo qua per muoverci e divertirci, nient'altro. Va benissimo, va benissimo. Forza Orlando. Grazie, grazie.